buongiorno buongiorno dalla challenge pancia piatta stiamo lavorando allora secondo giorno con l'allenamento addome dieci minuti di addome siamo ancora un po tranquilli usiamo ancora un po di pause ma poi man mano che ci avvicineremo al decimo giorno lavoreremo sempre con meno pause finisco il mio spuntino perché oggi è spuntino tardissimo sono rientrate solo ora e faccio uno spuntino proteico a bomba spengo anche il cellulare ragazzi e via partiamo allora immagino che abbiate già fatto un po di riscaldamento prima di iniziare questo allenamento ma direi che non ci sono problemi ragazzi non ci sono problemi sull'addome allora andiamo a sistemarci in accoggio andiamo sul crunch classico qualcuno di voi avrà ancora male da ieri ci sta se non siete abituati a far muovere l'addome lavorando specifico allora facendo questi dieci minuti però non potete segnare che avete fatto attività fisica quindi aggiungete un po di cardio un po di ciclette una camminata una corsetta mi raccomando questa è un'aggiunta che facciamo in questi dieci giorni per andare a stimolare la microcircolazione sulla pancia stop andiamo di nuovo addome facciamolo in tre tempi mentre veniamo su colgo solo un attimo sta pinza mentre veniamo su contiamo quindi uno due e scendo tre uno due e scendo tre butto fuori e ispiro ok stop recupero e cosa facciamo adesso addominali in tre tempi nuovo uno due e scendo se avete problemi al collo mettete le mani dietro e se non piegare così guardate sempre in alto sollevate le spalle uno due scendo uno due spingo un po di più e scendo senza piegare il collo lavoro sull'addome scendo senza piegare il collo e scendo senza piegare il collo e scendo tranci classico sempre la stessa cosa veniamo su un momento solo però ok quindi uno e scendo due scendo tre giù quattro giù su giù su giù su giù su giù ultimo scendo recupero bravissimi recuperiamo meno di più andiamo adesso a fare un bicycle però in appoggio a terra quindi ruoto e ruoto ok cercatevi lo spazio bene le mani e andiamo sollevo torno sollevo torno lo dicevo già ieri anche se non siete all'interno della challenge abbinate il fitocomplete che vi aiuta a bruciare i grassi addominali soprattutto se siete in fase di perdita peso ok e stop giù molto bene scivolo mani a terra teniamo le mani bene in appoggio mi sollevo mi sollevo scivolo mani a terra e vado giù scivolo mani a terra vado giù guardavanti ok stop recupero adesso facciamo un po' di più ok stop recupero adesso facciamo un po' di più facciamo sempre una rotazione braccio aperto l'abbiamo già visto ieri sollevo devo solo girare un po' se no sollevo gamba e vado d'apertura rocce ruoto creativi lo spazio perché se no andate come me contro il divano e recupero dai 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 bravissime intensità che aumenta adesso facciamo una sorta di isometria quindi spingiamo bene in alto la gamba in avanti diciamo allora partiamo in questo modo isometria isometria 3-2 3-2 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 mettiamo un po' l'isometria 1-2-3 1-2-3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, facciamo l'ultima, ok, e di nuovo addome in tre tempi, ok, quindi cerco di spingere su e poi ancora un po', sentite anche l'addome alto, pincentrale alto, ok, pronti e andiamo su, 1, spingo ancora e scendo, spingo, scendo, 1, su, giù, 1, spingo ancora, giù, attenzione a non spingermi il collo, mi raccomando, 1, spingo e giù, 1, spingo e giù, ok, stop, porto bene, di nuovo braccia allargate, mi sposto un pelo, se no non riesco davvero a prendere, ok, allargo e vado su, attenzione attenzione Ok, giù, 10 secondi e facciamo una bella isometria, alzando spalle e alzando Ellerone, gambe, ok? Spingiamo su e tengo. Alziamo bene le braccia, bene le spalle, sguardo avanti. Tengo, ok, stop, bravissime. Crunch classico. Un po' normale e partiamo. Crunch classico. Andiamo su e scendo. 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 Ok, stop. Recupero. E andiamo a fare un crunch, un reverse crunch, quindi sollevando le gambe e leggermente il sedere. Quindi giù, andiamo su, solleviamo e facciamo un piccolo saltello. Se riuscite tenete le spalle alzate. Saltello, alziamo il sedere. Braccia su. Date una piccola spinta. Ok, facciamo l'ultima. Ok, ragazzi, bravissime. Allunghiamo. Poi, come vi dicevo, prendetevi qualche attività di stretching che avete sul mio YouTube e fatela. Magari quando avete un pochino più di tempo la fate più lunga, se no anche solo qualche pezzetto per allungare, per attirare. Immunghiamo un attimo. Portiamo sulle gambe, distendiamo bene anche la schiena. Ok, ragazzi, ci abbiamo fatta anche oggi. Ottimo lavoro e ci rivediamo assolutamente per il prossimo allenamento. Dieci minuti di attore. Grazie.